Ecosistema Taranto, l'alleanza lei fa parte del PD, il PD vuole l'ILVA aperta. Noi abbiamo già lavorato in questi anni a ordinanze alla mano per chiudere le fonti inquinanti. Quale? Una sola? Non significa fermare l'industria. Quindi dobbiamo tenere aperta l'ILVA? Questi anni abbiamo lavorato per un'ILVA più piccola, più moderna. E perché non chiuderla definitivamente? La valutazione dell'impatto sanitario preventivo. Quindi non la vuole chiusa? Non abbia l'aria a caldo come la conosciamo. Mi risponda, non la vuole chiusa? Assolutamente, noi siamo per tutte le attività compatibili con la mia. Ha saputo i dati dell'ONU? Per la decarbonizzazione, quei dati li abbiamo forniti noi. E quindi è ancora più grave averli forniti e tenerla aperta. Grazie. Averli forniti e tenerla aperta. Grazie.